Da cosando? È davvero bello farvi gli auguri di buon 2018 ricordando la nostra carta costituzionale che in questi giorni spegne la sua settantesima candelina. Il 22 di dicembre è stata approvata, il 1 gennaio del 1948 è entrata in vigore e quindi siamo proprio a cavallo tra i 70 anni dall'approvazione e i 70 anni dall'entrata in vigore. E allora dobbiamo chiederci tutti, me compreso, me compreso, quante volte la calpestiamo la nostra carta costituzionale? È tristemente facile calpestarla? È sufficiente non leggerla per chi non l'ha mai letta o non rileggerla per chi come me ha avuto la fortuna di leggerla tante volte ma che ogni volta che la rilegge scopre qualcosa di nuovo. E allora buon 2018 con la Costituzione nella speranza che tutti ma proprio tutti la leggano, la conoscano e quindi non la calpestino. Evviva Dio la Applichino Bacosano Bacosano Bacosano